Nella casa del grande fratello ormai da qualche tempo i telespettatori hanno cominciato a notare un certo trasporto tra Marco Maddaloni e Rosy Chin. Entrambe infatti in alcuni atteggiamenti sembrano attratti uno dall'altra. La situazione tuttavia potrebbe presto raggiungere una svolta dato che mentre Rosy Chin e Marco Maddaloni erano insieme sul divano è accaduto qualcosa che ai fan più attenti del grande fratello non è passato inosservato. Il judo che infatti ha fatto un gesto piccante nei confronti della giovane cuoca. Mentre erano entrambi sul divano Marco Maddaloni ha allungato la mano sulla coscia di Rosy Chin accarezzandola e solleticandola. Un gesto un po' equivoco tanto che in molti si stanno chiedendo come l'avrà presa Romina Gianminelli, moglie di Marco Maddaloni e anche ovviamente il marito di Rosy Chin. Di certo le tenerezze tra di loro, gli sguardi e le battute sono sempre più evidenti. Voi cosa ne pensate? Scrivimelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima! Ciao!